Infrastrutture, strade e trasporto pubblico tra criticità e prospettive, confronto tra operatori e utenti. E' questo il tema del convegno organizzato dalla Conf Consumatori di Altamura che si svolgerà lunedì 6 novembre alle ore 18 presso l'Aula Consiliare del Comune. Altamura è riconosciuto ormai da tempo come importante snodo nevralgico e cerniera economica per molti operatori del settore del commercio, artigianato e industria e da alcuni anni si sta scoprendo anche come particolare attrattore turistico. Sarà questa l'occasione per un incontro che vedrà confrontarsi da una parte gli operatori e dall'altra gli utenti e i pendolari per discutere sulle prospettive dei collegamenti e del trasporto di cose e persone da e per il nostro territorio. Dopo un'introduzione di Giuseppe Pignatelli, componente dell'ufficio legale, membro del direttivo della Conf Consumatori di Altamura, seguiranno gli interventi di Matteo Colamussi, presidente delle FAL, Gerardo Marino di Marino Autolinea e l'onorevole Liliana Ventricelli che sta seguendo i lavori dell'ANAS sulla Statale 96. A sottolineare lo stretto legame che pone Altamura come passaggio obbligato tra Bari e Matera, anche in vista del fatidico 2019, si confronteranno i due assessori regionali ai trasporti di Puglia e Basilicata, Antonio Nunziante e Nicola Benedetto. Ai rappresentanti istituzionali e agli operatori ed addetti ai lavori si affiancheranno per la Conf Consumatori l'avvocato Carmelo Cali, rappresentante del CNCU, esperto nella tutela dei diritti dei passeggeri, e Maria Lisa Moramarco, portavoce del gruppo Falle Migliorare, mentre Michele Micunco, presidente della Conf Consumatori di Altamura, concluderà l'incontro. A moderare l'evento ci sarà il giornalista Vito Giordano. Il convegno verrà ripreso integralmente da Canale 2 e sarà trasmesso in differita durante la settimana.